Un conto corrente non è per sempre. Circa 200 piacentini rischiano di perdere definitivamente una parte dei loro risparmi. Nel maggio 2020, tra meno di sei mesi, scadranno i termini per recuperare alcuni tesoretti di cui sia intestatari o eredi e di cui, per un motivo o l'altro, si sono perse le tracce negli ultimi anni. Si tratta dei cosiddetti conti dormienti passati in gestione a Consap, la società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale affluiscono i soldi privati per cui da troppo tempo non ci sono state operazioni finanziarie, come versamenti, prelievi bancari, bonifici o pagamenti elettronici. Per risvegliare questi risparmi, depositi, libretti, azioni, obbligazioni e assegni circolari non riscossi e non movimentati da almeno 20 anni, occorre contattare Consap.